Dallo stadio sportivo comunale di Mariano comincia il campionato d'eccellenza, tredicesima giornata, girone A, in Mariano incontra il busto 81. A voi le formazioni, Mariano numero 1 Comin, 2 Frigerio, 3 Malvestiti, 4 Innocenti, 5 Testini, 6 Bianchi, 7 Zorloni, 8 Bertani, 9 Diaferio, 10 Delefare, 11 Sironi, busto 81. Con numero 1 Monzani, 2 Neimi, 3 Baio, 4 Maimer, 5 Sorrentino, 6 Scarcella, 7 Panzetta, 8 Silla, 9 Torraca, 10 Mira, 11 Milani. Dirige l'incontro il signor Cerea Davide della sezione di Bergamo come primo assistente Antonicelli Daniele, sezione di Milano, secondo assistente Kouga Mohamed della sezione di Bergamo. Buona partita a tutti. 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 Buona partita a tutti.